benvenuto alla lezione numero 10 di wordpress passo passo la guida che ti permetterà di apprendere i primi passi fondamentali per utilizzare questa piattaforma quest'oggi andremo a vedere come sia possibile personalizzare il proprio tema con le widget infatti nella lezione precedente abbiamo visto come fosse possibile personalizzare appunto a grandi linee il tema cambiare l'immagine intestata il colore dei link e anche il titolo ed il motto del proprio sito quest'oggi andremo invece a vedere come sia possibile aggiungere o rimuovere elementi al proprio tema in una maniera molto dinamica andando a sfruttare appunto le widget che ci vengono proposte sia da wordpress che quindi troverai reinstallate all'interno della tua piattaforma sia che ti verranno installate man mano che utilizzerai plugin plugin che abbiamo visto come installare come ad esempio nella puntata numero 6 quindi basta con queste chiacchiere e andiamo nel vivo del nostro wordpress eccoci qua come puoi notare il sito è sempre lo stesso ma prima ancora di entrare nel pannello di amministrazione volevo mostrarti alcuni elementi elementi che si trovano qua in basso nell'area chiamata anche footer abbiamo un modulo di ricerca e poi abbiamo diversi menu che semplicemente sono apparsi qua non riusciamo neanche bene a capire come mai ci sono e come fare per personalizzarli bene non lo sappiamo fino adesso infatti andiamo un attimo all'interno della nostra bacheca e guardiamo che cosa è possibile fare proprio come abbiamo visto nella scorsa lezione all'interno del pannello di amministrazione è presente la voce aspetto ovvero la voce che contiene al suo interno tutte le caratteristiche che possiamo personalizzare all'interno di un tema nella scorsa lezione abbiamo visto come fosse possibile personalizzare il tema con le stesse funzionalità che la piattaforma ci mette a disposizione quest'oggi andiamo a scoprire invece cosa risiede all'interno della voce widget da questo punto di vista le widget non sono altro che un titolo e una breve descrizione nient'altro ma la cosa ancora più interessante è che io se lo desidero posso prendere questi elementi e trascinarlo nell'ordine che io preferisco all'interno delle aree da me selezionate ma posso fare anche il contrario quindi posso prendere una delle widget presenti all'interno di una delle aree predestinate e come puoi vedere il tema 2013 ci permette di avere due aree di widget distinte vedremo a breve anche la loro differenza ma dicevo posso prendere la widget che mi interessa rimuovere da una determinata area posso rimetterla diciamo al suo posto oppure assegnarla ad un'altra widget facciamo un piccolo esempio diciamo che io nella mia area principale dei widget ovvero il primo contenitore di widget che ho a disposizione voglio rimuovere la widget cerca ed anche la widget meta a questo punto sono rimasto con queste quattro widget ovvero articoli recenti commenti recenti archivi e categorie andiamo a vedere con visualizza sito come si è trasformato il mio wordpress ecco che abbiamo per prima cosa capito che l'area principale widget va ad aggiungere e togliere elementi proprio all'interno del nostro footer infatti da sei elementi che avevamo compreso modulo di ricerca e la sezione meta adesso abbiamo soltanto quattro elementi che rispecchiano completamente gli elementi che abbiamo presenti all'interno dell'area principale ma quindi l'area secondaria dei widget che cosa fa proviamo subito aggiungendo le cose che abbiamo rimosso dall'area principale quindi prendiamo cerca e rilasciamolo all'interno dell'area secondaria questa particolare widget ci permette anche di impostare un titolo quindi diciamo che come titolo voglio mettere cerca all'interno e cliccando salva ho salvato come mi mostra anche la preview qua accanto al nome della widget ho salvato cerca all'interno appunto poi abbiamo rimosso ad esempio il link meta quindi aggiungiamo anche questi e andiamo ad aggiungere un titolo anche a questa widget mettiamo semplicemente titolo come esempio e salviamo anche questa il fatto che le widget hanno delle opzioni è una cosa che dovrà entrarci molto in confidenza perché a seconda delle widget che andrai ad utilizzare queste opzioni saranno più o meno presenti andiamo a fare un esempio concreto prendiamo la widget rss che ti permetterà di aggiungere un feed rss e in automatico mostrerà gli ultimi articoli presenti all'interno di quel feed e guardiamo che cosa ci chiede come puoi vedere ci chiede ad esempio l'inserimento della url di un feed rss che non è altro che la possibilità di consultare le ultime pubblicazioni di un blog possiamo dare un titolo ed inoltre abbiamo anche altre opzioni infatti ci permette di scegliere quanti articoli visualizzare e anche se mostrare alcune altre opzioni relative all'articolo stesso a noi al momento non ci interessa perché vogliamo ancora scoprire dove si trova l'area secondaria delle widget quindi una volta salvati i titoli non dobbiamo fare altro che tornare sul nostro wordpress ed aggiornare la pagina ecco qua che come puoi vedere a parte che il tema mi si è leggermente interrotto per via dei contenuti qua sulla sinistra che sono troppo corti però posso vedere chiaramente che sono state create due nuove aree l'area per la ricerca e l'area che elenca tutti i link che diciamo sono più di amministrazione infatti troviamo dei link che ci permette di fare il login e logout e ci permette anche di controllare alcuni link agli rss ed anche un link che ci porta direttamente a wordpress.org quindi abbiamo capito che all'interno del tema 2013 abbiamo due aree widget molto differenti fra loro la prima che è la principale ci permetterà di aggiungere e rimuovere widget all'interno del nostro footer mentre la seconda ci permetterà di creare addirittura una nuova sezione all'interno del nostro sito sezione che tendenzialmente prende il nome di sidebar perché di lato al contenuto principale e grazie a questa nuova area possiamo inserire quante nuove widget desideriamo ovviamente man mano che utilizzerai wordpress scoprirai nuove widget e vorrai giustamente poterle utilizzare ti ricordo che come comunque molte di queste widget molti di questi elementi aggiuntivi sono raggiungibili grazie all'installazione di diversi plugin che hanno come unico scopo quello di fornirti nuove funzionalità da aggiungere al tuo sito web benissimo abbiamo visto quindi velocemente che cosa sono le widget e come si possono utilizzare e possiamo dire che anche questa lezione è conclusa come sempre ti ricordo che se vuoi darmi una mano a crescere puoi cliccare sui bottoni di condivisione presenti nell'articolo o nella pagina youtube dove è ospitato questo video io ti ringrazio intanto per la tua attenzione e ti aspetto per la prossima lezione